buongiorno ragazzi vi ricordo per chi volesse sostenere il canale un clic su iscriviti è tutto gratis non si spende nulla non arrivano fatture a casa lo sappiamo tutti quando l'undici titolare dell'inter soprattutto in serie a fa quello che sa fare non ce n'è per nessuno ma quando ci sono quegli undici e gli undici lì purtroppo per come la vedo io io sono tranquillo quando ci sono loro ma è quelli in panchina perché tranne due tre vogliamo spaccare il capello in quattro spacchiamo il capello in quattro in panchina tranne due tre non c'è nessuno a livello dei titolari è un inter la solita inter che gioca memoria è un inter che gioca veloce fa girare la palla duemila all'ora io non ricordo un inter così bella sinceramente non ho né vent'anni né trent'anni non un po' un po' di più io non ricordo un inter così bella e soprattutto a me quello che impressiona in questa squadra è la capacità di rimanere alti impressione senza paura e l'utilizzo dei difensori in fase offensiva è un calcio totale io non ho mai visto un inter così bella ma questo ve lo sto dicendo da tanto ormai dall'anno scorso io accendo la tv e ragazzi io mi diverto tanta 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 roba gasperini facevi meglio rimanere al mare a a finire la bronzatura perché ad un certo punto ti hanno inquadrato mi dicevamo michele ti hanno inquadrato nel tuo secondo sembra avvi uno di questi pensionati che guardano i cantieri annoiato non sapevi cosa fare gasperini ti mancavano titolari sì ho capito ma sei stato annientato gasperini sull'autorario martinez io voglio dire eh una cosa eh un ha fatto una grandissima partita molti lo hanno sottovalutato ma ha preso tanti falli ma tanti e soprattutto non ha perso una palla non ha perso una palla ha lavorato tantissimo per la squadra un poche volte l'ho visto lavorare così tanto per la squadra ha fatto degli ottimi tagli tatticamente il toro ormai è diventato un fuorilasso anche a livello tattico ha fatto dei tagli per far sì di eh che potesse togliere la marcatura al turam perché lui ieri al turam gli ha creato tantissimi spazi eh in tante azioni e e poi ragazzi eh ripeto una squadra questa cioè che se siamo sempre tutti e tutti e undici non ce n'è per nessuno problema eh il problema che bisogna secondo me affrontare sono le cinque competizioni perché questi undici non sempre possono eh giocare due due tre volte in dieci giorni ripeto per come la vedo io e nella mia opinione dietro la tula c'è il vuoto allora io guarda io sono apprezzato o odiato no cioè io o rimango simpatico rimango sui coglioni io questo lo so e non sono così presuntuoso da pretendere di rimanere simpatico a tutti però io ti devo dire anche per rispetto vostro che comunque dedicate del tempo a me perché io lo dedico a voi e voi lo dedicate a me e solo per questo bisogna dare rispetto alle persone bisogna essere sinceri e a volte secondo me bisogna dire alle persone anche quello rimanendo sempre nella totale sincerità bisogna dire alle persone anche quello che non si vogliono sentire dire partendo dal presupposto che io no eh io non sono costretto a dire determinate cose se no non mi danno il pass per entrare allo stadio capito come fanno il 70 per cento di quelli su youtube che devono mantenere una linea io non ho una linea eh editoriale io mi segno le due tre cosine da dire due tre argomenti e le dico ma io non ho nessuna linea editoriale a me non me ne frega nulla del pass per entrare a stanzino se voglio andare a nello skybox giuse vieni nello skybox io prendo e pago quelle pochissime volte durante l'anno quando vado a stanzino quindi io ti dico e eh ho visto ieri e ne ho parlato anche ne ho parlato anche mio fratello mio fratello è un allenatore insomma che mio fratello potrebbe allenare in Serie A parliamo quindi a livello tattico spesso dopo le partite parlo con lui te come l'hai vista perché lui eh è un milanista maledetto ma comunque eh forse perché da piccolino vede l'Inter anche lui eh quante partite si è visto con me dell'Inter però comunque mi sembra strano ma mio fratello è un milanista che guarda giocare anche l'Inter ve la faccio breve uno dei due perché l'altro è per la Fiorentina ci siamo tre si sta cercando in tutti i modi di pompare taremi i giornali sono due settimane che lo definiscono come un fenomeno fateci caso è stata messa in moto e non me ne frega nulla eh è stato messo in moto un sistema per far sembrare che questo sia un giocatore top questo è tutto all'infuori che è un giocatore top da lì a dire Taremi ci darà una mano certo Taremi farà qualche gol certo ma anche Zelischi poi l'altro grande acquisto spiegatemi perché ancora non ha fatto un minuto in campionato perché fisicamente è a posto un undici titolare devastante l'Inter ha un undici titolare ed un sistema di gioco devastante ma ha una panchina dove se te ne togli due o tre nulla come l'anno scorso nell'azione allora lì è stato detto per come la vedo io per come per come ho visto Arnatovic muoversi in campo è stato detto di far segnare questo giocatore in tutti i modi mi riferisco a Taremi vedi cosa cazzo fa Arnatovic te mi dici avrebbe sbagliato uguale ho capito ma Taremi in una non fa né movimento e inciampa due volte sembravano Taremi e Arnatovic come dicevamo in chat che di sera sembravano due giocatori presi così a caso dal pubblico ragazzi chi vuole fare venti minuti e messi in campo si vuole pompare per forza un giocatore che purtroppo oltre a darci una mano secondo me non potrà fare perché dopo Turam e Lautaro Martinez non c'è nessuno che arriva a un 40 per cento delle loro performance motivo per cui serviva una grande punta di livello allora io ti dico questa è la mia idea poi ti dico dire Giuse a me non mi sta bene quello che dici secondo me non è vero ci mancherebbe ognuno ha la sua idea la verità in tasca e la sfera di ristallo qui per dirti cosa succederà io ti sto esternando le mie sensazioni sto cercando di pomparlo in tutte le maniere allora visto che Correa rimane qua che è il più giovane degli attaccanti in panchina in una partita dove alla fine la giocavi quasi tutta di ripartenze perché non mettere Correa perché non credere un po' più in Correa allora a questo punto perché anche su Arnatovic ragazzi ieri ho sentito cioè sono arrivate offese da ovunque ma offese pesanti Arnatovic ha solamente eseguito un ordine che era quello di cercare di far segnare Tarem come secondo me l'ha ricevuta tutta la squadra cercate di far segnare sto ragazzo anche se sono passate solo due partite perché purtroppo i gol contro il Balmarisa i pizzichettone non contano perché noi avevamo Ricky Alvarez che tutte le estate faceva venti gol negli amichevoli il campionato lo dipingeva tutti fuori l'asse e il capo faceva ridere però ricordate Ricky Alvarez io non sto dicendo che succederà la stessa cosa ma aveva avevate fatto diventare Bissek Beckenbauer e Taremi Suarez ovvero del Barcellona giovane calma calma il campo sta dicendo altro il campo sta dicendo altro ragazzi è inutile tempo di tutto quello che ti pare il campo io ho visto quello che inciampa quell'altro sbaglia un gol che non sa come passaglierla e questo sembrava una scena di Ridolino chi se lo ricorda Ridolino allora emozionato orgoglioso di avere questa squadra un calcio il più bello in Italia ma tra i più belli in Europa però tolte gli undici titolari quando comincia a fare le sostituzioni frattesi perditi è entrato solo con lo scopo di fare gol ieri mi può star bene sul 4 a 0 perché frattesi l'ho vista con un po' nervosetto ma ci sta ma altre cose non mi piacciono rosa con lacune per le cinque competizioni un undici devastante che se stanno bene girano ciao ciao e chi ti piglia fai fumo anche in serie a ma quando incominci a sostituire due tre giocatori vai in difficoltà perché perché quelli in panchina tranne agusto carlos che per me è un grande giocatore frattesi che per me piaccia non piaccia ma per me frattesi è un grande giocatore e tranne aslani che si deve svegliare per me tare te lo ripeto te lo ripeto a me se mi dici giusto ma tare mi può dare una mano sì può fare qualche gol sì ma oltre a quello non può fare non è lontanamente ai livelli né di arnautovic né di turam e nè di l'autaro martini cioè tare mi è un giocatore non gli lega nemmeno le scarpe né a l'autaro né a turam parliamoci a lo stesso arnautovic lo stesso orrea questo capito che ti dicevo quindi la rosa è quella che cioè se proprio capito se c'è un grandissimo dislivello tra quelli regione quelle stanno in panchina mentre no bisognerebbe la panchina fosse un po più a livello di vedi e giornali stanca l'allenatore magari inventarsi qualcosa ma quando ci sono quegli undici in campo e poi turam ragazzi per chi non ritirava per chi diceva che era un pippone guardate guardate focus o discovery channel non guardate il calcio che turam è un mix tra ito e adriano a turam va tolta la lausola turam è uno degli attaccanti più forti che c'è in europa e attenzione perché sta sta aumentando la cattiveria sottoporta attenzione a turam che sta aumentando la cattiveria sottoporta e secondo qualche fuori classe turam avrebbe perso il posto la titolare quest'anno duram avrebbe perso il posto l'attività ma ascolta ma lo so va a guardare masterchef l è meglio